Come è la cooperazione istituzionale? Come è la cooperazione istituzionale che questa città si è conquistata bisogna far presto. Noi siamo contro i commissariamenti ma siccome questo governo in linea con il governo Renzi e Gentiloni ha confermato i commissariamenti abbiamo cooperato con Salvo Anastasi a maggior ragione e comunque allo stesso modo e mi auguro ancora di più cooperemo con Floro Flores che tra l'altro è un napoletano e penso che abbia sete di bagnoli rigenerata come l'abbiamo tutti noi. Quindi basta chiacchiere al governo chiediamo fatti e concretezze.